3, 2, 1, fai! E se non fai il bravo? Atterro, calcio, ruotante, riatterro, calcio, pom! Bravissimo voi a prenderli, sono molto motivata! Andarle per fortuna non lo so! Sono qua pronto, se serve il momento in cui mi debba far vedere come si fa, lo faccio! Mi sono fatto un pochino male, ma sai, un'eroina fa tutta di niente e va avanti! Grazie!